eccoci qua oggi ci sono io a fare a commentare un po questa gara non c'è il mister veniamo da un periodo molto stressante quindi ci eravamo dati questo impegno prima della gara che se vinceva non veniva in sala stampa e l'avrei sostituito io e così è stato comunque un momento è stato un periodo molto difficile per cui ci sta che uno sia stressato stanco e pieno di responsabilità come tutti noi e quindi è giusto che in certi momenti uno si rilassi anche un attimo beh sarà da raccontare un po fra qualche mese o non so quando perché ne sono successe talmente tante in questi ultimi 15 giorni a noi di cose che è difficile commentare adesso è meglio stare sul presente e pensare e pensare a quello che ha risultato sensazionale che abbiamo fatto oggi e soprattutto a che abbiamo 10 12 giorni da preparare bene la trasferta di lecce questo è quello che conta stiamo recuperando un po tutti i giocatori importanti abbiamo ancora 3 4 giocatori infortunati che hanno ma ormai siamo sul sul percorso del recupero totale quindi penso che quando andremo a lecce forse germoni che ha una patologia un po più lunga rispetto agli altri ma tutti gli altri dovrebbero esserci salvo naturalmente cose al momento imponderabili abbiamo parlato di condizioni fisiche appunto nel secondo tempo una bellissima risposta di fisico e di carattere se l'aspettava no non me lo aspettavo complessivamente una prestazione così e nemmeno risultato devo essere molto sincero perché in serie b le squadre sono tutte molto forti e pensare che noi dopo con dei giocatori che si sono allenati due o tre giorni dopo 15 giorni di di malattia potessero oggi fare una prestazione di questo livello contro una squadra forte come il venezia credo che sia difficile era difficile prevederlo per ognuno quindi siamo contentissimi abbiamo cioè una delle vittorie di queste ultime ne abbiamo fatto 21 da quando abbiamo cominciato tra ci e quest'anno questa è una proprio delle più pesanti proprio dal punto di vista morale e dal punto di vista motivazionale scontato chiedere una vittoria che sa di miracolo no miracolo no direi che che però fa parte dei sogni perché questa settimana a parte le 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 motivazioni le incitazioni continue del nostro mister sognavamo un ritorno al calcio giocato di questo tipo ma sai quei sogni non sempre si realizzo questo si è realizzato e quindi chiaramente per noi è tanta tanta roba dopo alcuni giorni che ci hanno parlato portato a parlare anche di questioni fuori dal campo com'è tornare al terreno di gioco con tre punti beh ok su quello che è venuto fuori dal campo adesso chiudiamo quell'argomento lì perché purtroppo è stato già detto tutto e qualche volta siamo andati anche fuori del seminato però non si poteva fare differentemente adesso siamo tornati al calcio giocato noi noi temavamo di dovere oggi pagare concedere qualcosa al nostro avversario in termini di punti siamo riusciti a raccogliere il massimo e direi che questa è la cosa che conta di più e che mette a posto tante cose che in questo periodo sono state dette fatte e alcune anche difficoltà che abbiamo avuto su vari livelli un piccolo quadro dell'infermeria con le condizioni di costa di alcuni calciatori che non sono scesi in campo stavo dicendo prima noi abbiamo germoni che è una patologia adesso andrà da uno specialista per una settimana per una cura specifica delle cicatrici muscolari che non gli permettono poi di riattivare elasticamente i muscoli e spesso si rompe voltan invece e scusate dimentico i nomi e aieti ormai sono pronti dalla prossima settimana vanno tempo pieno hanno finito un iter e quindi siamo a posto costa stasera nel riscaldamento perché lo volevamo utilizzare per la sua esperienza ha un po di dolorini nel polpaccio vedremo se ha qualcosa di di negativo oppure se solo un problema momentaneo quindi al momento non saprei cosa dire per costa per chiudere l'ultima domanda dopo tre settimane senza partite si può considerare anche una vittoria mentale e questa è una gara che è stata preparata soprattutto sul piano motivazionale sul piano emotivo sul piano caratteriale abbiamo usato tutta la settimana la parola coraggio abbiamo usato l'abbiamo tradotto anche in latino che vuol dire avere cuore quindi c'è era su quel piano che noi potevamo giocarla perché già il venezia è molto forte era più preparato di noi dal punto di vista mentale era più preparato di noi dal punto di vista fisico quindi bisogna fare saltare oltre l'ostacolo siamo riusciti in questa impresa quindi direi che la voce motivazioni e preparazione psicologica questa gara negli ultimi tre giorni è stata fondamentale